... ... Non voglio vederla anch'io Mamma, abbiamo appena finito di vederla L'ospettacolo è finito Beh, devi solo riaposare il nostro Mamma Zio Max, vieni, guardiamo il film Oh, no Ci ho messo una razione doppia di burro Ehi, state guardando il film Una storia che merita Va raccontata due volte Ma che cosa? Oh, permesso Permesso, permesso, permesso Levati dai piedi Cos'è questo affollamento? Ehi, state giù lì davanti Allora Sì Attenti Ok, amico, hai vinto tu Sicuro che non ti dispiace? Facuna, attacca Sì Sì, Timon Continuo ad avere qualche problemino Tra la folla Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.